e io ero proprio nella direttrice insomma dove stava andando la palla e l'ho presa facilmente in mano e la leggenda narra che l'ho guardato dicendovi Michael però pensavo fosse un po' più forte Bella raga, nuovo appuntamento nuovo Passa dal Basement ma in realtà nuova stagione di Passa dal Basement se così si può chiamare io sono Gianluca Gazzogli se ancora non lo avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale perché ne vedrete delle belle se ancora non avete visto le belle del passato potete anche recuperare tutte le puntate però insomma siamo qui per partire partiamo con una puntata speciale davvero sono molto contento perché è un onore gigantesco perché è una persona che ovviamente io stimo da diverso tempo ma una squadra di persone che stimo da diverso tempo che insomma sono tutti tra i motivi per cui ho anche iniziato ad appassionarmi a questo sport perché ovviamente a Passa dal Basement se siete qui per la prima volta parliamo di un sacco di cose diverse di tematiche diverse insomma lo scopo è creare anche un'atmosfera diciamo tra amici ecco sono chiacchierate tra amici e in questo caso facciamo una chiacchierata davvero speciale soprattutto per i tanti appassionati a parte di sport in generale ma in particolare di basket ed è per questo che insomma ci tenevo sono molto contento che quello che sta per succedere al Basement oggi è davvero speciale anche perché adesso se la telecamera si allarga potrebbe sembrare una gangbang ma in realtà in realtà attenzione attenzione dato che ci sono gli europei di basket in arrivo qui c'è come dire la squadra di Avengers che si occupa di gestire e di allenare e di guidare questa nazionale Little Basket in questo europeo guidati dal CT Gianmarco Pozzecco ecco hai voluto preoccupare la gente a casa guarda c'è anche l'applauso che sarà di più poi durante le partenze speriamo la verità che adesso vi presento c'è il presidente dei pupazzi Peppe Poeta c'è il pupazzo 1 che è Edoardo Casalone il pupazzo 2 Riccardo Fuà o Fois di tutti i punti di vista il pupazzo 3 che è molto rigido che è Federico Fouca e poi c'è il loro idolo che è Asbulla fallo vedere Fede bravo Asbulla teatro vestito da azzurro anche lui perché chiaramente fa parte del nostro staff non ti sentiamo per bene potrebbe essere il pupazzo 4 non so se è il vostro livello però allora insomma queste sono le premesse non tanto della nostra chiacchierata di oggi ma è la realtà nel senso non è che possiamo vendere fumo anche perché sennò saremo dei spacciatori ma la realtà è che siamo messi così chiaramente facciamo una grande affidità sulle abilità dei nostri giocatori perché se facessimo affidamento all'abilità del nostro staff saremmo rovinati ma allora in realtà la cosa che poi mi chiedevo subito vedendo questo gruppo che subito da quando siete entrati mi è apparso molto affiatato chi è quello che li ha messi insieme esatto chi è quando cioè come nasce quando poi ti arriva una situazione niente eravamo strafatti una sera sto scherzando no io vabbè Pepe lo conosco da una vita mi aveva rubato il portafoglio in stazione esatto Edo niente faceva il barbone a Sassari no a parte scherzi ma l'idea è nata prevalentemente insieme a a Salvatore Trainotti e chiaramente il nostro presidente Petrucci quella di fare uno staff giovane questa necessità la vivevo la vivevo io in prima persona ma l'ho condivisa con loro e hanno come dire erano contenti di perseguire quella che era l'idea appunto di andare in una direzione cioè quella di fare uno staff giovane che abbia entusiasmo anche perché insomma lo consideriamo un po' un anno zero anche se chiaramente da quando sono stato eletto a furor di popolo come CT della nazionale diciamo che abbiamo avuto poco tempo per fare discorsi legati al futuro perché chiaramente abbiamo l'Europeo alle porte abbiamo avuto le qualificazioni per i mondiali quindi non c'è stato tempo di come dire di far vedere quello che abbiamo in testa e di far capire i programmi che vogliamo il programma che vogliamo mettere in piedi però ripeto l'entusiasmo era alla base e alla base del mio come dire della mia filosofia sportiva e quindi Edo lo conoscevo già perché abbiamo lavorato insieme a Sassari Peppe è stato un giocatore straordinario una leggenda e volevo avevo bisogno di 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 una visione prettamente cestistica cioè di uno che comunque avesse vissuto il campo anche per aiutarmi nel rapporto con i giocatori Riccardo Fois è un po' la nostra come dire visione americana che chiaramente essendo uno sport poi nato oltre al di là dell'oceano chiaramente poi anche perché i giocatori oggi ambiscono tutti a giocare nell'NBA quindi il fatto di poter di poter come dire confrontarsi con lui è estremamente utile ai giocatori cito Magnon su tutti e poi l'ultimo arrivato Federico Fouca era in difficoltà economiche mi ha chiamato mi ha garantito il 25% del suo stipendio che è niente perché sono 80 euro però insomma ha detto no Federico lo conosco da una vita perché insomma sono amico anche del padre e quindi insomma diciamo che il fattore umano mi sembra che sia particolarmente importante è ragione Gianluca per la verità che mi ha fatto una telefonata mentre io ero in vacanza in Sardegna è una telefonata che apprezzai molto perché insomma aveva semplicemente manifestato di quanto fosse semmai entusiasta di poter partecipare a una manifestazione con l'Italia quindi ma lo avevo come dire percepito grande genuinità da parte sua in un mondo dove la genuinità purtroppo insomma non è un un sentimento vissuto non è anzi non è proprio un vissuto non è proprio vissuto e ho apprezzato molto quel fatto lì ho apprezzato poi enormemente il fatto che 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 corrispondesse poi alla verità si è presentato con grande entusiasmo Federico ed è una cosa che nel mio modo di allenare è indispensabile quindi siamo quattro pupazzi e ci divertiamo a sbullare un po' meno c'è la quale viene è anche arrivato da poco a sbulla ma avrà modo sicuramente di integrarsi nel gruppo io poi qualcuno della squadra già lo conoscevo siamo amici tra l'altro Edo mi ha anche allenato in una partita in realtà nella radio si vede e con Peppe invece avevo fatto altre cose però insomma il lato umano come hai detto tu l'ho visto sempre molto importante con Peppe hai fatto altre cose no altre cose no vabbè cene cose 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 d'amicizia diciamo è anche una partitella in realtà di beneficenza nessuno l'ha mai detto Peppe è stato in campo aveva una dote particolare che era quella di rubare i palloni nessuno l'ha mai capito il perché perché il suo background l'ha portato ad avere questa facilità nei furti però è sempre stato parliamo di come se non fosse qui Peppe Poeta peraltro è sempre stato molto apprezzato dai tifosi di tutte le squadre e amato dai compagni questa è la mia sensazione ed è una di quelle poche poche perché comunque i giocatori di basket tendono a fare gli sportivi i giocatori che però ha un pensiero un modo di pensare che va al di là del campo e quindi insomma ho sempre pensato che anche successivamente alla carriera del giocatore non dico che potesse fare il diplomatico però qualcosa di questo genere è vero Peppe diventerà insomma anche a detta del nostro presidente Petrucci il prossimo presidente federale se la stanno giocando lui se la stanno giocando lui e Gigi Gigi ha il vantaggio che legge di più no Peppe a parte di scherzi io lo conoscevo abbastanza bene ma non benissimo cioè non bene come lo conosco adesso e ha delle qualità straordinarie io mi rivedo mi rivedo tanto in lui solo che ho ho meno energia di lui cioè io di fronte a determinate cose come dire mi rinchiudo un po' in me stesso Peppe da questo punto di vista è straordinario è uno che ha delle batterie infinite è sempre estremamente positivo e secondo me nel mondo dello sport è una qualità per me addirittura necessaria per altri magari forse un po' meno ma comunque utile e quindi avere vicino infatti sono contento di condividerlo con Ettore Messina perché lo aiuterà molto non che Ettore abbia bisogno di cose particolari per ottenere come dire il successo che merita però Peppe secondo me è la persona giusta anche all'interno dell'organizzazione dell'Armani per appunto aiutare Ettore a raggiungere i successi che merita anche perché tanti allenatori spesso hanno bisogno di un'altra persona che li aiuti a comunicare con i giocatori anche per te è così? Hai bisogno di quel tipo di figura? Guarda Gianluca il primo interrogativo che più o meno tutti si pongono è questo tu hai bisogno di una persona che ti cioè complementare o hai bisogno di una persona che sostanzialmente ti aiuti a sviluppare quello che è il tuo credo cestistico io sono più per la seconda ipotesi cioè io sono convinto che ogni allenatore ha delle caratteristiche ogni allenatore vede la palacanestro a suo modo ogni allenatore vede la leadership come dire autentica quindi sostanzialmente assolutamente individuale personale e quindi io sono convinto che l'organizzazione dello staff sia votata come dire ad andare tutti nella stessa direzione piuttosto che prendere un allenatore che ti complimenti per andare un po' più nel pratico per essere un po' più esplicito e desagustivo io ho bisogno di persone che la vedono più o meno come la vedo io cioè che hanno grande che hanno empatia che hanno grande rispetto dei giocatori che hanno grande rispetto di quello che fanno del loro sacrificio più che avere come dire il mago della tecnica della tattica perché la mia convinzione è questa sono i giocatori a vincere le partite i giocatori devono essere messi nella condizione mentale di poter rendere al massimo e ho bisogno di persone al mio fianco che siano convinte che questa sia la strada migliore per farli giocare la pallacanestro più efficace e tra l'altro insomma nello staff c'è anche una figura molto importante che oggi non c'è sì non è un pupazzo lui stavo dicendo sta giocando a Galaga non è di là giocare a Galaga beh Charlie le calcate esatto ma sai Charlie è un po' nostro padre putativo nel senso che è un po' una figura di riferimento per tutti noi abbiamo grande rispetto di Charlie è una persona straordinaria vedi la verità è che poi anche lui adesso non è un pupazzo ma non lo so neanche loro chiaramente stiamo scherzando insomma fino a un certo punto e la verità è che Charlie ha questa grande capacità di beh adesso sembra brutto e sembra svilente dirlo ma dove lo metti sta ed è secondo me una dotta invece enorme perché ogni allenatore deve avere la capacità di districarsi in qualsiasi sia la situazione in cui vive e Charlie ha questa cioè se ci pensi uno che ha vinto tutto come lui che ormai non ha più nulla da chiedere la sua carriera come dire vivere il quotidiano insieme a quattro pupazzi come noi vuol dire che hai uno spirito giovane uno spirito che ti che ti dà la possibilità di affrontare qualsiasi tipo di esperienza perché sei una persona estremamente elastica ed estremamente ma lì come è andato il momento l'hai chiamato tu è stato bellissimo eravamo io come ti dicevo prima Petrucci e Salvatore tra i notti sono Salvatore tra i notti sono un po' di osse smacchina Petrucci è il nostro il nostro capo il presidente e avevo mi ero incontrato a Brescia con a metà strada perché Salvatore viveva a Trento io vivevo insomma ai tempi a Milano si siamo incontrati a Brescia a fare un po' il punto soprattutto per quanto consideravamo importante in quel momento l'allestimento dello staff avevamo come dire già messo in piedi buona parte dello staff medico fisioterapico e mancava sostanzialmente quello tecnico e io mi sono presentato con l'idea di proporre Charlie sapevo che essendo chiaramente un personaggio altisonante poteva creare come dire un po' di non sapevo che tipo di reazione potesse avere il presidente piuttosto che Salvatore invece mi hanno dato carta bianca e con grande entusiasmo mi sono lanciato in macchina a 250 all'ora non sto scherzando a 130 perché non si può dare di più una roba che odio adesso strumentalizzano tutto questo non diventerà il titolo stavo andando a Cantù perché volevo dirlo di persona ero praticamente arrivato fino a Mornasco lo stavo chiamando non mi rispondeva o dava occupato quando mi ha risposto io dai sono sotto che la tua apri che salgo il covid e quindi è stata come dire è una cosa che poi a me ha emozionato molto perché come dire chiedergli di insomma chiedergli di fare l'assistente cioè non gli ho chiesto di farmi l'assistente gli ho detto mi accompagni in questa avventura in questo viaggio ti va di stare al mio fianco e di aiutarmi e volevo farlo di persona perché era una cosa che a cui come dire io vivo di queste cose qua sono molto sentimentale quindi mi sarebbe piaciuto abbracciarlo invece sto cazzo di covid ha precluso ma gli avevi detto il citofono poi no no perché io sono terrorizzato il covid avevo paura di prenderlo anche tramite il citofono il covid poi ne abbiamo parlato al telefono e oggi Charlie è con noi beh questa è una figata insomma perché è una figura che è abbastanza importante per quello che è stato tutto il tuo percorso di vita oltre che da giocatore ben Gianlu molto banalmente non ho vinto ho vinto pochissimo anzi non ho vinto quasi non voglio dire parolacce però in certe situazioni mi hanno detto non ho vinto quasi un cazzo e quindi le uniche due cose che ho vinto in carriera le ho vinte con Charlie quindi la medaglia d'argento alle olimpiadi nel 2004 e lo scudetto nel 99 quindi diciamo che sono hai detto una roba nel libro attenzione sono preparato ho letto il libro ma c'è c'è niente da fare no 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 tra l'altro complimenti perché l'ho trovato super autentico e insomma tante cose potevi evitarle tra virgolette molti avrebbero evitato di scriverle tu invece hai messo tutto no mi sono autocensurato e avrei potuto scrivere beh cazzo se ti sei autocensurato così posso immaginare no più che altro sai la censura Gianluca è nata più che altro da non dal mio livello di censura che è praticamente pari a zero ma non volevo raccontare cose che magari coinvolgevano altre persone quindi quello che ha coinvolto quasi esclusivamente me l'ho sottoscritto l'ho raccontato e l'ho scritto situazioni dove magari venivano coinvolte altre persone non ho evitato certo beh nel caso di Charlie dicevi proprio quando lui poi era era arrivato a Varese tu dicevi lui non aveva vinto niente no e dice una cosa tipo alla fine io pensavo che ero io che avevo fatto vincere lui ma dopo che lui ha vinto tutto mi sa che è lui che ha fatto vincere me è vero perché lui arrivava da Bergamo aveva fatto la Serie B quindi insomma diciamo io ero un po' in quel momento un po' un giocatore di riferimento comunque Varese era una piazza che stava regalando enormi soddisfazioni quindi diciamo che l'opportunità era più era quella che viveva lui più di quanto noi di essere allenati da Charlie vincemmo quell'anno lì e quindi questo fatto glielo facevo pesare poi mi sono reso conto alla lunga a fine carriera che la verità è che lui poi ha vinto con la Fortitudo ha vinto con Siena ha vinto con la Nazionale e io ho smesso di vincere però hai fatto un sacco di cose io credo tu sia stato fondamentale per tantissimi appassionati di basket per giocare a basket nel senso che una figura come la tua vale più di una figura che ha vinto magari tutto anche perché comunque tu hai vinto adesso scherzi a parte cioè ci sono delle cose importanti e credo che tu abbia fatto di più per il movimento in generale rispetto a qualcuno che magari ha vinto tutto ma non si è dato con il cuore non so come dire la mia conformazione fisica sono d'accordo con te forse magari anche un po' immodestamente però la verità è che è tutto legato secondo me alla mia conformazione fisica diciamo che io ho regalato la speranza alla stragrande maggioranza dei ragazzini che iniziano a giocare a palacanestro e non crescono perché hanno una statura come dire nella media e quindi rimangono alti 1,75 1,80 1,85 che è una come dire nel mondo della palacanestro che per certi versi è un po' razzista perché dà veramente un vantaggio consistente a quelli che invece hanno un'altezza diversa dalla media e diciamo che ho regalato questa speranza qua cioè il poter diventare un giocatore di palacanestro perché perché già Marco Pozzecco in campo pur essendo piccolino non dico nano perché se no l'associazione nani mi scrive no è vero ci è successo un paio di volte non è un'eccezione come dire non la uso come eccezione negativa ma vabbè sono piccolino e pur essendo piccolino sono riuscito a come dire a emergere in un mondo di giganti e quindi tutti quelli che rimangono piccolini si sono riconosciuti no? sì o vivevano la speranza di poter anche loro e quindi diciamo che nel mondo della palacanestro secondo me sono stato abbastanza rappresentativo e ho fidelizzato ho avuto la possibilità di fidelizzare molto con i fans certo proprio per questo motivo quindi sono stato fortunato diciamo sono stato fortunato da questo punto di vista sono stato sfortunato perché se fossi diventato magari più alto avrei fatto forse anche qualcosa di più vabbè sono tante le cose che hai fatto e che colpiscono tutti adesso sei diventato appunto allenatore no? a parte che come ti sei emozionato quando c'è stato il momento della conferenza stampa anche lì secondo me in tanti si sono riconosciuti cioè a volte il lato umano nei professionisti ad esempio a volte non traspare mi ha colpito anche molto adesso purtroppo c'è stato l'infortunio del Gallo dove ovviamente siamo tutti rammaricati e tu hai fatto un post sui social e poi magari sono curioso di chiedere qual è il tuo rapporto con i social però dove sei stato molto spontaneo cioè hai scritto hai fatto degli auguri a Gallo scrivendo Gallino una cosa di questo cioè che è una roba che non ti aspetti mai no? da quello che ha un ruolo diciamo di un allenatore istituzionale però questa cosa qui ti fa entrare incredibilmente a contatto con chi con chi ti sostiene guarda a me non piace collocarmi al di sopra o come dire farmi passare per sostanzialmente quello che non sono sono una persona che ha un'intelligenza al di sotto della media sono una persona che è stata fortunata perché era capace di mettere la palla in un cesto quindi insomma riduco la mia esistenza insomma forse più a un'esistenza banale però è anche vero che non posso non riconoscere che certe cose avendole vissute mi è più facile viverle per esempio la situazione del Gallo io l'ho vissuta mai contemporaneamente e ti spiego che cosa vuol dire io mi sono infortunato nel 1993 mi sono completamente disintegrato un ginocchio quindi diciamo che ho avuto lo stesso infortunio del Gallo non ho partecipato delle spedizioni da Turre perché sono stato come dire rispedito a casa in svariate occasioni non mi è mai capitata la sfiga di farmi male in nazionale quindi essere rispedito a casa per quel motivo lì però diciamo che ho la capacità di comprendere quello che ha vissuto il Gallo perché in due separati momenti ho vissuto entrambe le cose e quindi so quanto lui abbia sofferto quindi insomma è abbastanza normale che io abbia dato il giusto peso alla cosa magari più di altri allenatori che invece non avendo giocato non hanno mai vissuto infortuni e non hanno mai vissuto esclusioni dalla nazionale e avendo giocato ti è già capitato di solito quando uno diventa genitore a un certo punto si ritrova a dire delle frasi che dicevano i tuoi genitori a te e i tuoi genitori ti dicevano guarda che quando sarai grande tu le dirai come allenatore ti è già capitato di dire delle cose che i tuoi allenatori dicevano a te allora dice una cosa estremamente esatta nel senso che io le rinnego e le utilizzo nei confronti dei miei giocatori come dire erano stronzate ma non perché tutto quello che gli allenatori dicono equivalgono a delle cose che non hanno non hanno senso la verità è che spessissimo il genitore piuttosto che l'allenatore è estremamente banale ti dice delle cose che sono clamorosamente ovvie la verità è che secondo me un allenatore o un genitore deve avere la capacità di far vivere al figlio il figlio me lo dice mia moglie che da questo punto di vista secondo me è capace sono come delle spugne quindi l'esempio che tu dai è quello che poi loro raccolgono il dire che ha un figlio che non deve drogarsi o un giocatore di palacanestro che deve difendere è banalissimo quindi io queste banalità a loro non le dico perché 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 secondo me sono sono banali a tutti penso a tutti quelli che hanno orbitato in un contesto di squadra è capitato per esempio che l'annatore all'inizio dell'anno faccia questo discorso e dica ragazzi date il 100% poi quando siete stanchi non vi preoccupate venite da me alzate la mano e dite sono stanco perché ho dato il 100% fino a questo momento e non vi preoccupate vi darò la possibilità di riposare quindi di saltare l'annamento ecco questa è la classica stronzata che l'annatore come dire dice ma che poi se mai si dovesse verificare non è in grado di sostenerla perché se poi come dire dopo 10 minuti di allenamento uno alza la mano e dice scusa sono stanco vado a casa cioè l'annatore ha una reazione che non è quella che aveva pronosticato cioè si non ti preoccupare vai a casa perché hai fatto 10 minuti al 100% quindi allenare ci sono come dire delle ma anche per il genitore ci sono come dire delle cose che ti lasciano tranquillo che vuoi raccontare per far vedere che sei un po' come dire meno tradizionale di tutti gli altri meno legato alle tradizioni alle classiche usanze e ti comporti come dire come se fossi un po' io la realtà la realtà delle cose che alleno secondo me in modo anomalo che non vuol dire che io sia più bravo degli altri però queste cose insomma non gliele faccio vivere ai miei giocatori mi fido ciecamente di loro questa è un'altra come dire è un'altra cosa che fa tutta la differenza del mondo io non sono padre spero di diventarlo però la verità è che spesso i genitori non si fidano dei figli e spessissimo i genitori non si fidano dei giocatori e tu hai detto una roba bella in passato che insomma è qualcosa che credo che ambisca anche tu stesso cioè quando vedi e i tuoi giocatori spesso lo fanno quando vedi cioè l'obiettivo del giocatore è gratificare il proprio allenatore far felice tra virgolette il proprio allenatore è un po' una missione quasi compiuta guarda a me è capitato anche con Charlie con i calcati quando quando tu riesci a non giocare più per gratificare te stesso raggiungi un po' come non so come quello che fa yoga è raggiungere il nirvana secondo me hai già vinto tu come allenatore hai già vinto il giocatore in campo poi nel momento in cui riesci anche a raggiungere il successo sportivo perché vince una competizione piuttosto che una gara veramente vivi un'apoteosi di sentimenti e di emozioni bellissime tra l'altro Ital Basket ha dimostrato questa nazionale anche alle Olimpiadi comunque di avere un fattore umano che gli ha permesso di fare anche dei passi in più tu lo stai riscontrando vedi un gruppo unito insomma sai Gianluca dobbiamo fare una distinzione netta tra la nazionale fino a qualche anno fa e le nazionali di oggi allora una volta diciamo che per un giocatore la vetrina nazionale era una vetrina importante è una vetrina che ti poteva dare l'opportunità di firmare contratti onerosi di migliorare la tua situazione cestistica dal punto di vista non solo economica ma anche prettamente legata al vincere qualcosa oggi oggi no oggi no cioè noi abbiamo 12 giocatori che hanno come dire già il contratto per il prossimo anno indipendentemente da come giocheranno l'europeo diciamo che c'è talmente dal punto di vista tecnologico la tecnologia ti permette di vedere da qualsiasi parte del mondo qualsiasi campionato di qualsiasi livello e quindi la conoscenza che tu hai di un giocatore è conclamata una volta gli scout andavano a vedere gli europei piuttosto che i mondiali piuttosto che le olimpiadi e magari rimanevano impressionati dalla capacità di un giocatore piuttosto che di un altro oggi tutto ciò non accade perché la conoscenza che hanno gli scout dei giocatori che poi sostanzialmente hanno delle potenzialità sono come dire sono già fatte finite non ti capitarà mai a un europeo che ne so un giocatore ucraino di fare l'europeo della vita e finire nell'NBA una volta succedeva perché ti dico tutto ciò ti dico tutto ciò perché in più giochi gratuitamente cioè in nazionale non percepisci soldi se non una minima di aria che per quello che guadagnano i giocatori oggi è ininfluente e quindi lo fanno solo ed esclusivamente per il piacere di farlo e lo noti io è la prima cosa che ho notato anzi a dire il vero è la prima cosa che mi ha detto Nick Melli quando chiaramente sono stato come dire assunto dalla federazione per ricoprire questo ruolo seppur in un momento in cui l'Olimpia Milano stava facendo i playoff mi sono preso un po' la libertà di parlare un po' con Nick Melli non volevo poi chiaramente disturbare né i giocatori della Virtus né i nostri perché volevano che rimanessero concentrati tutti sulla finale però lo ammetto con Nick Melli ho fatto una chiacchierata è la prima cosa che mi ha detto mi ha detto già Marco devi salvaguardare questo gruppo perché è la cosa più bella che abbiamo poi la seconda cosa devo essere onesto ho detto una mezza bugia ho parlato anche con Gigi da Tome perché io avevo preso in considerazione di fare capitano Melli perché per un discorso anche di continuità sappiamo che Gigi è il suo The Last Dance e quindi volevo un capitano che come dire a cui affidarmi per un periodo più lungo ho parlato con Melli eravamo in aero stavamo atterrando in aeroporto siamo atterrati in aeroporto mi sono avvicinato a lui eravamo al Pensa me lo ricordo come se fosse adesso ho detto guarda che ho preso in considerazione di andare da Gigi a dire a Gigi appunto che sarai tu il capitano e lui mi dice no non ci penso nemmeno deve farlo Gigi e gli dico ma perché no lascia stare Gigi se lo merita è sempre stato capitano lui gli dico guarda apprezzo tantissimo questo tuo gesto andrò a parlare con Gigi e vedo cosa mi dice Gigi e Gigi è stato il numero uno perché quando gli ho detto guarda ho pensato che il capitano lo farà a Melli mi ha detto vabbè se pensi così io non vengo beh dai d'altronde loro non si prendono mai in giro sai cos'è che Gigi non stava scherzando mi ha detto guarda Gianmarco è una cosa a cui tengo tantissimo e gli ho detto Gigi lascia stare ho pestato una merda e fai finta che questa telefonata non sia mai stata fatta e il capitano sei tu non ti preoccupare ma è una cosa che è nata vedi anche questa cosa qua è stata molto genuina Melli mi ha detto no Gianmarco lo deve fare Gigi Gigi mi ha detto no Gianmarco lo devo fare io e io non ci avevo capito una mazza praticamente cosa che succede perché gli allenatori pensano sempre di essere come dire lungimiranti di avere sempre la soluzione la ricetta per tutto e invece ogni tanto diciamo delle cose che non hanno senso e avevo detto una cosa che non hanno senso Melli sarà un grande capitano non ho dubbi ma è giusto che oggi il capitano sia Gigi Datome beh questo è molto bello perché poi uno a volte da casa quando tifo quando è seduto sul divano si immagina dietro che ci sono chissà che cose e invece alla fine è come funziona è un gruppo come può essere un gruppo di amici o di lavoro sempre che ci sia una strategia dietro dove sono coinvolte dici no c'è il KGB dietro che si è messo no raga succede così in un aeroporto in una chiamata adesso dico una cosa che non c'entra con lo sport ma secondo me è così anche in qualsiasi sia la decisione che sia politica piuttosto che legata a una guerra pensiamo sempre che ci sia dietro chissà che cosa in realtà poi è una persona che prende una decisione stupida come avevo preso la decisione io di far capitano certo ma non di far capitano Melli ma di non far più capitano Gigi Datome tra l'altro all'interno di questa nazionale appunto c'è una grande amicizia che è quella tra Gigi e Nick come in passato è stata fondamentale per te l'amicizia con il Menego in squadra loro diciamo sono una versione più politicamente corretta più come dire del Menego e del Poz diciamo che insomma sì in effetti vabbè tra me e il Menego c'era una dose guarda io ho avuto modo di conoscerlo meglio quest'anno perché abbiamo fatto un programma insieme e io tutte le volte gli chiedevo insomma ero curioso di sapere un po' come andavano certe cose e tutte le volte dicevo ma secondo me se ci fossero stati i social ai vostri tempi eravamo rovinati eravate rovinati eravate rovinati ma guarda il Menego tra l'altro l'ho visto ieri è cambiato molto ha due figlie insomma ha una famiglia splendida e il Menego è a squinternato vero io non stavo bene perché io ammetto di aver avuto delle patologie forti che hanno condizionato la mia esistenza ma paragonato al Menego insomma era un bel uno contro uno ecco finiva veramente ai supplementari secondo me però la verità è che è una delle persone più genuine che abbia mai conosciuto in vita mia è uno che ma te ne posso raccontare mille del Menego ne ha fatte veramente una se ti viene in mente ma una volta eravamo in un ristorante eravamo in un ristorante c'era questo acquario stranissimo come dire aveva era piccolo era molto basso ed era completamente aperto sopra cosa insomma di solito gli acquari sono alti che magari hanno uno che porterò sopra con le aragoste che magari proprio per evitare che la gente ci metta le mani dentro e c'era una murena che non so se cazzo è illegale questa cosa no ma non so se le murene si mangiano quindi cazzo fa nei ristoranti ci sono gli acquari non per vedere cioè non c'è uno squalo ecco c'è l'aragosta che poi magari dopo ti mangi guarda sono freschi sì sì e c'era questo murena arrivò questo Oscar Eleni che era insomma il giornalista per eccellenza nel mondo della palacanestro cioè veramente stiamo parlando della penna nel mondo della palacanestro e mise il dito vicino a come dire all'acqua dove insomma era posizionata questa murena che chiaramente è stata tratta da questo gesto però chiaramente si tenne a debita a distanza il menegro a me viene a ridere il menegro è passato dietro gli ha dato un colpo sul gomito e ha fatto in modo che praticamente il dito si avvicinasse alla murena la murena chiaramente ha avuto una sua reazione cercata di saltare fuori dall'acqua per staccargli il dito certo la reazione sostanzialmente è stata questa Oscar Eleni non ha mangiato niente bianco tutta la sera e continuava a guardarsi il dito ringraziando il cielo che insomma faceva parte ancora della sua mano e il menegro ha vissuto tutto ciò come se non fosse come dire successo nulla di particolare non ha filtri da quel punto il menegro poi non si preoccupa neanche delle reazioni io poi ci feci caso non so io mi ricordo un pagelle meneghin 3 bollito firma Oscar Eleni e poi andavi a vedere statistiche meneghin 32 8 rimbalzi 4 assist non corrispondeva da quel momento in poi gli ha messo una croce sotto ma giustamente ma giustamente però insomma per raccontare a volte anche quando all'interno di una squadra poi questa vostra amicizia questo vostro legame aspetta devo dire una cazzata perché so che farà piacere non era Mimmo Morena questo è bruttissimo Mimmo era un altro dei nostri ha giocato con noi aveva reso due anni comprò Policano a 1.400.000 lire al fantacalcio Policano chiaramente quell'anno lì si è creduto Mimmo Morena è un noto giocatore di Napoli chiaramente appassionato del Napoli calcio e mi ricordo che erano i primi anni del fantacalcio ha speso 1.400.000 lire chiaramente 1.400.000 lire per Policano 800.000 lire per Ferrara ma noi spendevamo non so 50.000 lire tutti quanti facevano l'asta e poi arrivò a casa e sua moglie vide questo foglietto dove appunto aveva scritto i prezzi e insomma lo minacciò di divorziare Mimmo Morena si ritirò dal fantacalcio la triste storia dell'avventura l'avventura del fantacalcio di Mimmo Morena e per quanto riguarda la maglia appunto della nazionale tu hai vissuto emozioni di ogni genere adesso ovviamente vestirla come allenatore deve essere una roba boh tu l'avevi mai messa in conto cioè proprio non ho mai creato aspettative quando giocavo non è che tutti pensavano vediamo allora che già Marco Smetta perché diventerà un eccellente allenatore cioè è stato tutto non penso che ce n'era uno è stato rinchiuso in un carcere sezione mentale però tu senti di avere visto tutte queste cose dei conti in sospeso con la maglia della nazionale con la nazionale no guarda io non ho conti in sospeso con nessuno una cosa di cui sono estremamente fiero di come una delle pochissime cose di cui posso andare fiero io di me stesso è che non ho che hai risolto tutto sì e poi soprattutto sai nella tua vita incontri sicuramente le persone che ti aiutano le persone che magari ti danneggiano la verità è che io vivo più che altro per gratificare le persone che mi danno una mano non le persone che poi sostanzialmente non hanno grande rispetto di quello che faccio non hanno grande considerazione di me non le vivo e quindi poi successivamente se eventualmente poi è riuscito come dire veramente qualcuno a danneggiarmi penso che poi sia una responsabilità mia mi è impressionato come ad esempio nel libro racconti ovviamente dell'esclusione dalla nazionale nel 99 era no e come poi in realtà hai provato comunque per un certo periodo insomma un po' di risentimento verso l'allenatore che ti aveva e poi come questo in realtà nel tempo tu l'hai trasformato in altro sì sì la verità è che io insomma nel 99 vincevo lo Scudetto Varese adesso senza falsa modestia ero ero forte ero forte meritavo quel posto in nazionale però chiaramente come spesso accade e oggi lo riconosco perché ricopro questo ruolo devi mettere in piedi una squadra oltre cioè non devi non devi prendere i migliori e metterli insieme ogni tanto devi anche rinunciare a un po' di talento poi per certi versi per fare in modo che la squadra abbia una crescita abbia come dire una sua identità diciamo che in quel momento prima Tani invece poi Recalcati hanno fatto questo ragionamento pensavano che io fossi come dire non così necessario per quelle nazionali la verità è che chiaramente in quel momento da giocatore non lo accetti è giusto che sia così però poi ho sempre riconosciuto la grandezza sia di Charlie che di Tani perché furono onesti avevano una visione diversa da quella che magari avevo io in quel momento di me stesso però me lo dissero con grande con grande dignità con grande professionalità e con grande umanità e questa è una cosa che io poi ho apprezzato infatti sono due persone due allenatori due uomini che ammiro molto infatti che adesso credo che poi tutto questo ti serva un'altra cosa che osservavano in questo periodo ma sempre è il momento in cui forse anche empatizzo di più con alcuni giocatori e quando ci arrivano non so dei giovani o comunque dei momenti in generale in cui poi l'allenatore anche quest'anno è dovuto dire magari ad alcuni ragazzi o ad altri giocatori anche più grandi non per forza giovanissimi che insomma in questo periodo soprattutto di raduno di tornei dovevi fare la squadra no? adesso non voglio insomma quello che vuoi raccontarmi però come avviene è quel momento lì in cui tu hai appreso anche dalla tua esperienza per raccontare ai giocatori cosa avresti fatto della squadra ma sai allora secondo me empaticamente loro un po' lo percepiscono cioè sanno che come dire che la vivo male è il fatto stesso che uno percepisca che tu non sei sereno ma non sereno perché devi andare a dirgli che deve tornare a casa o che non farà più parte dell'avventura azzurra ma perché è proprio a te dispiace umanamente ti dispiace umanamente che lui non possa godere di questa opportunità cioè del fatto di entrare fra un paio di giorni al forum magari esaurito e quindi gli togli la possibilità di vivere delle emozioni il fatto stesso che tu stia soffrendo loro come dire rispettano forse un po' di più la tua scelta poi è vero che in assoluto ci rimangono male magari in quel momento l'amore che loro nutrono i tuoi confronti non è al massimo però è anche vero che la parte più importante è che nel tempo almeno da parte mia capiscano che la mia è stata una scelta sofferta e indirizzata a fare il bene della nazionale sempre prendendo in considerazione che comunque quella persona soffrisse un'altra cosa tu prima hai citato l'NBA grazie anche all'esperienza di Ricchi eccetera non capitava anni fa quando giocavi tu di avere avversari come quelli che magari ha l'Italia davanti a questi europei con così tanti giocatori NBA e di livello così alto cioè prendiamo di MVP che sono stati MVP NBA in diverse squadre anche questo è cambiato molto rispetto alla nazionale di vent'anni fa beh quando in una delle ultime amichevole che abbiamo fatto abbiamo giocato contro la Serbia e ho avuto il grande piacere di rincontrare Danilovic che è stato uno dei primi ad andare a giocare uno dei primi europei ad andare a giocare nell'NBA e mi raccontava di quanto all'epoca fosse difficile anche perché i giocatori europei nell'NBA erano sette e quindi chiaramente una clamorosa minoranza oggi come dire l'NBA è cambiata soprattutto da questo punto di vista perché i giocatori FIBA diciamo quelli che non sono americani l'anno scorso sono un badorato erano 110 quindi la considerazione che hanno all'interno dell'NBA gli staff il management dei giocatori europei è completamente mutata e quindi è un po' più facile in più chiaramente abbiamo visto giocatori riuscire a diventare addirittura MVP di quel campionato lì e quindi la considerazione è aumentata e poi insomma banalmente il livello del giocatore europeo si è alzato in modo spropositato quindi la verità è che noi andremo ad affrontare Diokic Antetokounmpo Doncic i giocatori che sono in grado di spostare gli equilibri in quel mondo lì che è il mondo chiaramente più complicato Cosa ti impressiona di più di questi avversari? L'aspetto fisico? Cioè il fatto di come siano anche atleti di un certo tipo? O quello mentale? Beh sai quando parti con due valigie dall'Europa attraversi l'oceano con dei sogni ma sostanzialmente anche con un po' di timore e torni indietro da MVP diciamo che hai riempito i bagagli di grande considerazione di te stesso quindi l'aspetto mentale penso che sia quando giochi contro Diokic contro Doncic contro Antetokounmpo la percezione che hai che hanno una sicurezza dei loro mezzi che prima non avevano Certo questo cambia e tu hai fatto quel tipo di esperienza con la Summer League? Sì ma sono tornato dietro con delle mutande sport però mi ha colpito come in realtà hai un piccolo rimpianto relativo a quell'esperienza Sì è l'unico allora guarda perché è un rimpianto? perché in realtà adesso ti racconto un piccolo rimpianto che mi aiuta poi a farti capire quello che voglio dirti un anno al Sede Vita facevo l'assistente a questo ragazzo che si chiama Gianan Musa che è bosniaco aveva 17 anni era un giocatore estremamente talentuoso mi rilascia un'intervista dove dice fra tre anni sarò forte come Lebron James chiaramente fece grande scalpore a questa sua intervista parlando con il dottore della società che è una persona estremamente intelligente estremamente carina parlando proprio di questa cosa mi dice sai Gianmarco la verità è che se pensi di poter diventare forte come Lebron James forse non lo diventerai ma magari hai una possibilità sui milioni se non pensi di diventare forte come Lebron James non hai neanche quella possibilità lì cioè non lo diventerai mai quindi per ambire a diventare qualcuno devi pensare di poter diventare quel qualcuno e questa è una cosa che sostanzialmente come dire ho imparato in quella vicenda quindi non mi ricordo più la tua domanda la domanda era in relativa alle tue esperienze di Summer League di quando eri giocatore che eri andato avevi fatto su piccolo riassunto comunque avevi fatto bene la prima partita mi ricordo quando poi è arrivato quello che ti doveva poi visionare in realtà è andata un po' meno peggio ma ti avevano comunque fatto una proposta a Toronto per andare fino in fondo e tu invece hai preferito tornare a Varese ma la verità appunto perché ti ho fatto questo esempio la verità è che quando io sono nato cestisticamente era impensabile che un giocatore come dire con le mie caratteristiche fisiche potesse addirittura giocare nelle miei quindi non lo neanche mai sognato e questo secondo me è stato l'unico ramarico grande che ho perché perché se l'avessi fatto probabilmente avrei giocato in NBA cioè non averci creduto davvero non averci creduto esatto non averlo mai come dire ipotizzato come difficile ma possibile però la partitella con Jordan l'hai fatta quella ma lì è una stronzata che racconto che però corrisponde alla verità giochiamo con Michael Jordan la sua tra l'altro vabbè il racconto completo è questo giocavamo l'OPS Gyms che è la palestra che Michael Jordan ha costruito per potersi allenare insieme agli altri e noi stavamo facendo questo 5 contro 5 era l'anno in cui Michael Jordan doveva decidere se tornare a giocare con Washington o meno a un certo punto eravamo 26 giocatori 25 giocatori di colore e io bianco piccolo smonto quindi Michael Jordan entra perché poi mi ha raccontato questo avvocato che lavorava per la Nike ai tempi mi disse ma chi cazzo è quello lì insomma come pensiero poteva anche essere poi nel momento in cui noi facevamo degli scrimmage cioè facevamo giocavamo 5 contro 5 eravamo come ti dicevo 20-25 giocatori e giocavamo ai 10 punti e quindi c'erano giocatori che stavano fuori e aspettavano di giocare la partita successiva l'unico che a un certo punto insomma sai quando quando giochi al campetto ogni tanto ti capita che entra uno e quando tu sei attacchi da una parte lui tira dall'altra che è una cosa che io ho sempre detestato e c'era questo questo ragazzo che mentre noi attaccavamo da una parte tirava dall'altra io che sono completamente leso mi sono lamentato e ho detto oh spostati dai esci che poi non sapevo neanche l'inglese chissà che cavolo gli ho detto spostats spostats sposa e beh era Michael Jordan no tra l'altro poi andavamo anche a casa sua cosa vuole questo e la verità che poi abbiamo giocato contro e lui a un certo punto gli fanno un passaggio sbagliato la palla stava uscendo lui per recuperarla chiaramente in extremi se l'ha buttato la palla senza guardarla lì indietro e io ero proprio nella direttrice insomma dove stava andando la palla e l'ho presa facilmente in mano e la leggenda narra che l'ho guardato dicendogli Michael però pensavo fosse un po' più forte beh cacchio però insomma è come quando l'ubriacone picchia una suora e poi dice Batman pensavo che fosse un po' più questa è una cagata che mi aveva raccontato Dino Meneghi mi sa beh questo è ancora più importante come come riferimento della io ero più o meno allo stesso livello dell'ubriacone da questo vabbè l'ultima cosa anche sulla tua esperienza invece in nazionale perché comunque la maglia azzurra ci ha fatto vivere grandi emozioni ai noi tifosi appassionati Gianluca ma avevi detto mezz'ora sei qua da due ore te ne sei accorto? pensavo pensavo che non te ne accorgessi no ho guardato l'ora per sbaglio no l'ultima sono le ultime due l'ultima è relativo a un qualcosa che ho visto riproposto negli ultimi negli ultimi settimane perché evidentemente c'è stato l'anniversario che era la partita con gli Stati Uniti quindi è stata un'altra impresa in cui il gruppo in cui il gruppo comunque ha fatto un po' la differenza beh parlando di Puriaconi la verità è che il loro giorno prima erano arrivati in Germania la mattina si erano palesemente divertiti insomma mi raccontarono mi raccontarono di un Iverson poco lucido insomma si divertirono la sera prima partita noi chiaramente vivemmo quella partita come se fosse giustamente la partita della vita e poi un po' anche le regole fischiarono passi insomma però la verità è che abbiamo vinto e ce la siamo goduta prima della partita mi ricordo Bulleri che chiaramente è il più pessimista del mondo disse che perdavamo di 80 punti cioè c'era chi diceva 60 e aveva quasi un senso che diceva 30 che non ce l'aveva perché era troppo ottimista c'era addirittura alla base la verità è che poi siamo stati bravi quella partita diciamo che se la ricordano un po' tutti e in più ci ha dato anche come dire parlavamo prima di consapevolezza di quanto sia importante per un giocatore avere fiducia in se stessi ci ha dato la possibilità poi di affrontare le Olimpiadi con grande garra c'è l'immagine quella tua dell'inchino è vero che dopo l'inchino ti aveva chiamato Danilović incazzato perché era suo sì il problema che detta così sembra sembra una cosa di vero no l'ha incazzato veramente io pensavo affettuoso no sto scherzando però adesso i pupazzi qui i miei assistenti hanno conosciuto Danilović e hanno visto una persona estremamente pacata meravigliosa la verità è che una volta non era così pacato ma no ho sempre avuto un rapporto straordinario mi ha fatto un piacere incredibile ecco un'altra cosa che ringrazio Petrucci e Salvatore e tutta la nazionale mi dà l'opportunità di andare in giro e rivedere personaggi di questo calibro con cui ho come dire un minimo trascorso in comune prima Danilović poi abbiamo giocato contro l'Ucraina ho rivisto Sasha Volko un'altra leggenda con cui ho giocato una partita a Varese l'opportunità che mi dà la nazionale di vedere personaggi di altissimo livello nel mondo della palacanestra è una cosa che mi gratifica cosa ti porti dell'esperienza con Ettore Messina di questa stagione o comunque in generale in quello che è la prima cosa che mi porto è che ho trovato un posto di lavoro a Pepe Poeta pensi sempre agli amici anzi ne ho trovati due due nello stesso anno prima con noi e poi all'Olimpio ma guarda sai io e Ettore siamo banalmente diversi nel senso insomma è normale abbiamo un background diverso insomma lui è insomma non so finita la Coppa Italia l'anno scorso in modo molto carino mi disse Marco quante Coppa Italia hai vinto tu a noi come una e poi gli dico tu nove ecco potrei anche non chiedermelo la verità è che la differenza tra me e lui ad oggi è questa ma non solo ad oggi anche perché c'è questo mio carissimo amico che si chiama Stefano Pidastrini che è un maestro nel mondo della palacanestro mi ha detto già Marco lui è irraggiungibile dal punto di vista del Palmares perché ha vinto tutto insomma in quantità impensabile e la cosa che guarda lo dico perché tanto penso che penso di poterlo fare anzi no adesso ce l'ho a spendere ci mette troppo ieri sera mi ha scritto un messaggio dai forza mi raccomando siete cari vi ho visto bene ma alle undici e mezza di sera no come era il classico messaggio per pensare che sto soffrendo perché chiaramente ho un'età anagrafica avanzata ma un'età come dire da allenatore come dire allenatore giovane sì sono allenatore giovane quindi voleva infondermi fiducia serenità che è una cosa che ho apprezzato molto e gli ho scritto grazie coach sei fantastico e lui ricordati che ti voglio bene ecco insomma penso che questo sia insomma inutile che io ti racconti di quanto abbia imparato da lui perché insomma non penso che ci sia bisogno di Gianmarco Pozzecco per dire quanto è bravo Ettore Messina ecco invece raccontare questo lato di Ettore che magari è più e suonosciuto mi fa enormemente piacere sì credo che anzi sia molto molto apprezzata come cosa perché appunto su quello si sembrate diversi se io quest'anno avrei avuto solo una telecamera solo su voi in panchina per vedere le reazioni non ti preoccupare quest'anno la facciamo con lui e Pepe ci divertiremo ecco Pepe tra l'altro è a culo perché è avvantaggiato da tutti i miei consigli come comportarsi cosa gli piace a Ettore cosa non gli piace vabbè caro Pepe il mio IBAN è IT457 tra tutte le percentuali comunque io ho detto già Pepe che manca una mozzarella di battipaglia all'interno del basement se riusciamo a recuperare ma poi Pepe figurati se non paga in nero questa tagliamo tagliamo tutto qua tagliamo tutto no per chiudere che cosa ti porre cioè che cosa vorresti che i giocatori della tua nazionale prendano dal Gianmarco Pozzecco giocatore e che cosa niente e che cosa non vorresti ma che prendano da quello che mi è capitato a me in carriera la soddisfazione di vivere una come dire un'avventura vincente con la nazionale ho avuto la fortuna nel 2004 di salire sul podio auguro a loro di di rivivere un'emozione simile è l'unica cosa che auguro a loro è l'unica cosa che magari insomma se dovessi se devo dire forzatamente una cosa che insomma da prendere dal sottoscritto è questa bella gli regalerei la mia medaglia che tra l'altro non so neanche dov'è perché mio papà sapendo che io sono così pirla da regalare le cose la nascosta non so dov'è non l'ho mai vista perché ha paura che io la regali comunque posso svelare che è la prima volta che in realtà io ti ho conosciuto ma anni fa tanti anni fa quindi io ancora non facevo neanche sognavo di fare questo lavoro che faccio e la forma intera c'è una foto dove ti tengo in braccio con i miei amici guarda l'altro giorno non mi ricordo con chi parlavo tutti quelli che mi hanno conosciuto mi hanno conosciuto in una situazione analoga però è sempre stato il tuo bello nel senso che molti si sono poi mi piace poi nel libro che in realtà tu specifichi tante volte quanto in realtà che cosa hai fatto che cosa non hai fatto soprattutto a livello di divertimento eccetera e il fatto è che tu non saresti stato il mese e mezzo racconti che tua mamma ha vissuto con te e ti ha fatto fare la vita da sano no atleta eri peggiore è stata la tua stagione peggiore è vero diciamo che avevo bisogno di un equilibrio da squilibrato avevo anche io bisogno del mio equilibrio la verità sai cos'è che adesso non voglio giustificarmi è una cosa che mi fa chiaramente sempre sorridere e poi anche enormemente piacere perché in balotta poi sono estremamente estroverso e ho sempre come dire salutato tutti con grande enfasi perché perché poi alla fine ero una persona socievole però la verità è che è normale che tutte le persone mi abbiano conosciuto come dire a una festa piuttosto che a Formentera perché a casa mia non è mai entrato nessuno e quindi di conseguenza diciamo che la vera opportunità di incontrarmi era e poi è anche vero che questo doveva ammetterlo che quando che sono campione del mondo dei festeggiamenti quindi andare a Formentera e passava inosservato non era roba tua non era una cosa che mi apparteneva grazie davvero coach ct semplicemente pozza grazie ragazzi davvero come? si è vero peggio che pade aspetta allora aspetta un attimo io qua sono il meno peggio è arrivato Federico e abbiamo capito che per farmi perdere dovevano farmi giocare con lui attenzione attenzione va bene che poi il più forte è tennis quindi in teoria non avendo mai giocato a padel si percepisce che è più bravo di noi però non ha ancora capito che c'è il vetro dietro comunque sono al forum sono comodi se volete un giorno ci facevo una partita mi fa solo piacere scherzi a parte grazie davvero è stato un onore e un piacere grazie davvero grazie raga e io non dico niente sugli europei perché c'è la scaramanzia qua non si dice niente però queste sono cose importanti da tramandare i poster non ti preoccupare grazie mille